Ecco il controllo, calcio di rigore, no punizione dal limite, punizione dal limite mi pare, punizione dal limite, calcio di punizione dal limite per l'atterramento di un nostro calciatore, l'arbitro si accinge a far rispettare la barriera dei 9 metri, la barriera si posiziona, adesso si aspetta il fisco dell'arbitro per la ripresa del gioco, 0 a 0, siamo a circa 10 minuti scarsi del secondo tempo, scusate. Rete, 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 non ho visto chi ha segnato, in bandaggio la Virtus Castelfrendano per 1 a 0, mi trovo abbagliato, non so chi ha segnato, però comunque ecco i fumogeni dalla tribuna opposta a quella principale, fumogeni giallorossi del gruppo Ultras, ecco proprio ripresa del gioco 1 a 0 a favore della Virtus Castelfrendano contro l'atletico Franca Villa.